Bene, buona serata a tutti. Do la parola al Vice-Segretario per l'appello. Martinelli Claudia, Essadiki Abdelgani, Fiori Sabrina, Davoli Alessandro, Pigoni Paolo, Caselli Giorgio, Maioli Luca, Vassallo Nadia, Scrutatori Caselli, Maioli e Rivi. Bene, iniziamo. Io non ho comunicazione del sindaco, se qualcuno ha delle comunicazioni, altrimenti passiamo al secondo.